Ma i cani hanno il senso di colpa? Lo scopriamo insieme. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio e sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Non sai quante volte mi sono sentito dire il mio cane ha capito di aver sbagliato e si è andato subito a nascondere? Devi sapere che i cani non hanno il senso di colpa come avviene nell'uomo. Ebbene sì, lo ripetiamo, i cani non sentono il senso di colpa. Quando fanno un'azione che secondo noi è potenzialmente sbagliata quello che accade non è aver capito che cosa hanno commesso ma è percepire il cambiamento emotivo che noi emaniamo attraverso delle particelle di odore. Quindi il nostro cane riesce a capire che noi siamo arrabbiati oppure che c'è qualcosa che non ci piace in quella determinata situazione ma non hanno un senso di colpa reale rispetto a quello che hanno potenzialmente commesso. Quindi da oggi in poi quando il tuo cane fa qualcosa che non ti piace ricorda non è un senso di colpa ma è un tuo cambiamento a livello emotivo. Ti aspetto nei commenti per conoscere il tuo punto di vista su questo argomento ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.